Stanno arrivando molte adesioni, venerdì avrò un incontro con l'assemblea di tutti i sindaci polacchi che peraltro sono preoccupatissimi, sono veramente molto allarmati per questa ondata impressionante di rifugiati che arrivano dall'Ucraina, chiederò loro un'adesione compatta di tutte le città, abbiamo avuto anche l'adesione di Varsavia, stanno arrivando adesioni di molte capitali, Stoccolma, Helsinki, verrà anche l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, credo che sia la prima volta all'inizio della guerra e parteciperà in presenza ad una manifestazione. Io mi auguro davvero che ci sia un'adesione di centinaia, di migliaia di europei in tutte le piazze e in tutti i palazzi e le manifestazioni promosse dalle città europee che sono a questo punto più di cento quelle che hanno aderito alla manifestazione del 12. confermata a Piazza Santa Croce, ore 15, invito davvero tutti, ringrazio le forze politiche e sindacali che stanno aderendo, ho parlato con il segretario nazionale Sbarra della CISL, lo ringrazio perché anche la CISL è fortemente impegnata e aderisce a questa manifestazione.